La polizia, la polizia! Madonna, madonna mia, fammi la grazia pure a me. Ma perché non te lo trovi pure te, un ragazzetto serio, sul tipo mio, rispettato? Non c'ho bisogno. Ti dico che c'hai bisogno. Io ti dico che non c'ho bisogno. I pregiudizi non mi toccano. Perché quello che conta è che ti conosco profondamente. Noi siamo due creature soli. Lui dice che gli piace tanto di parlare con me e parla, parla e come parla bene. E si, me sa che è un tipo che legge molto, un tipo istruito. Spiegami una cosa, ma che fa? E che ne so? Però è vero che ci sta una giustizia a questo mondo. Uno soffre e basta di tutti i colori. Ma poi viene il momento di essere felici per tutti. A presto. A presto.